Ehi, hai una sigaretta? Ce le ho, le tue preferite. Ma dov'è l'ambra? Purtroppo non ce l'ho con me al momento. E dovresti proprio complimentarti per il mio ottimo lavoro. Mi sono fatto il culo e sono riuscito a nasconderla prima di essere preso. Ed è per questo che sono ancora vivo. L'accordo era, ti tiriamo fuori di qui quando consegni l'ambra. Niente ambra, niente protezione, Luis. Quanto sei puntigliosa, eh, Ada? E va bene. Vado a prenderla ora, che dici? E c'è anche un'altra cosa che devo prendere.